Edizione straordinaria di Tele Merluzzo, l'ex preside Bernardo Carli, molto noto ai piacentini, è misteriosamente scompasso ieri sera. Le telecamere di videosorveglianza lo hanno visto l'ultima volta qui in tento a cercare una panchina su cui sedersi. Immediata la macchina dei soccorsi è coordinata da Paolo Boeri, sentiamo come stanno andando le ricerche. Stiamo aspettando l'arrivo degli alpini, così concentriamo le ricerche nei cespugli perché pensiamo che si sia perso proprio lì dentro. Stringi, stringi. L'area è stata recintata dal coreografo Riccardo Buscarini per impedire l'accesso ai curiosi. Ma com'è che non si può passare? Io vengo dai Stati Uniti per indagare sulla spedizione di Mr. Carli. Per cortesia si allontani da qui. Tutte le volte le solite storie, volete insabbiare ancora una volta. La notizia ha suscitato molto sconcerto in quartiere. Non ci possiamo credere, quei vialetti bui, le aiuole, è un attimo finirci dentro, chi ti trova più? Non posso crederci anch'io, sono dispiaciutissima. Mi dispiace Bernardo, fatti sentire. È stato qui a mangiare ieri sera, però poi l'ho vista andare verso il giardino. Ma sa quante persone scompaiono cercando una panchina ai giardini merlozzi? Come associazione ci siamo immediatamente mobilitati e abbiamo già inoltrato al comune una serie di proposte per la riqualificazione del giardino. Fra gli interventi la manutenzione del verde dei viali alberati e la sostituzione delle panchine. Può Bernardo essere davvero scomparso nella ricerca di una panchina? Gli inquirenti pensano di sì. Le indagini intanto proseguono, voi votateci. Dai Giardini Merluzzo è tutto, linea allo studio.